Questo vaso attico a figure rosse è uno dei tanti importati nel Piceno dalla Grecia e in particolare da Atene. Questo esemplare in particolare è stato rinvenuto nella ricca necropoli di Numana Sirolo, dove nel VI-V secolo a.C. esisteva un emporio molto importante al centro dei draffici in Adriatico. Il vaso fa parte di un ricco corredo di una tomba prestigiosa e rappresenta sulle due facce due scene diverse. Sul lato più importante è rappresentata una scena con Dioniso e Arianna. Dioniso è il dio del vino e questo vaso in particolare faceva parte dei vasi che servivano durante il simposio per mescolare l'acqua al vino. Il suo nome, Cratere, indica proprio questo, questa funzione precisa. Sul lato opposto, invece, è rappresentata la figura di Edipo e la Sfinge. Edipo è rappresentato proprio nel momento in cui sta cercando di risolvere il famoso enigma. La presenza di questo vaso, insieme a numerosi altri all'interno della stessa sepoltura, che fanno parte degli oggetti che servivano al simposio e al banchetto, lascia intendere come il defunto avesse recepito quei modelli dell'ideologia, del banchetto e del simposio che erano a pannaggio della classe più ricca e più agiata e che era stato recepito dalla Grecia, da cui molti di questi vasi del resto provenivano.